Quest'opera che è già stata presentata molti anni fa in questo teatro con grande successo ha un significato particolare per me, per la mia storia in questo teatro perché io qui ho debuttato 70 anni fa con uno spettacolo di prosa diretto da Cesco Vaseggio e con la presenza di Memo Galassi, era Lavaro di Goldoni per la DNA del teatro e mi vede ancora presente in questo teatro che considero un po' forse il teatro a me più caro in qualche modo perché c'è tutta una mia storia, un mio percorso professionale e anche affettivo in questo bellissimo teatro. Ne ho addirittura curato anche il restauro. Il teatro barocco mi ha molto ispirato, nella mia formazione di architetto e di scenografo io ho sempre dato ovviamente grande importanza all'immagine. Ora, il teatro barocco è un teatro di immagini fondamentalmente. Se si pensa che in definitiva quando questo genere teatrale ha avuto così grande successo, in gran parte questo successo era dovuto anche al talento, alla genialità di grandi scenografo, come c'erano Torelli, come tutta la dinastia dei grandi da Bibbiena. Erano, in fine conti, insieme con i castrati e con certi cantanti le star dell'epoca e gran parte del successo di queste opere era dovuto proprio alla parte visiva. Io ci sono dedicato, ho avuto molte occasioni, non soltanto con Rinaldo, ma anche con altre opere di Hendel e con tutta la serie dei rameaux che ho fatto in Francia, a Parigi, a Saint-Provence, al punto che in qualche modo rischiavo di essere classificato come un specialista di questo genere. in realtà, come le etichette non mi piacciono, ovviamente mi sono anche subito rivolto ad altri generi teatrali. Il Rinaldo è forse un po' il vero punto di partenza, per un'idea che io ho, che questo tipo di ideazione mi ha ispirato e mi ha suggerito. Questo teatro è molto basato sulla scenografia, l'abbiamo detto, e quindi sulla macchina teatrale. Ecco, questa macchina, che normalmente non si vede, io ho cercato invece, questa è un po' l'idea nuova, di visualizzarla, di umanizzarla. Allora, tutte le persone che muovono questo ingranaggio, questa macchina scenica, io le ho portate in totale evidenza e sono loro, sono proprio questi servi di scena, come nel teatro Elisabetiano, come nel Kabuki, che azionano questa macchina e sono loro che muovono questo straordinario ingranaggio. Ed è questa versione che noi riproponiamo qui, una versione che non è sostanzialmente mutata negli anni, è soltanto un po' aggiornata, soprattutto perché intanto cambiano gli spazi, cambiano le casse, e quindi tutto questo comporta degli aggiustamenti, dei ripensamenti. Ma soprattutto anche, tiene conto di un'evoluzione della tecnologia, soprattutto dell'unmeno tecnica. La cosa sicuramente che è alla base di ogni progetto è il rispetto per l'opera che prendo in esame. Il rispetto vuol dire mettere in tutta evidenza la musica. Ma non solo, perché anche il testo merita una sua attenzione, perché in definitiva poi noi ascoltiamo dei testi che hanno un loro peso, la loro importanza, drammaturgicamente, e quindi non si può sistematicamente immaginare di buttare tutto all'aria e di fare un'altra cosa. Io cerco di fare quell'opera, di farla più meglio, se posso dire qualcosa che è alla base del... Non voglio parlare di stile perché non sono io da decidere qual è il mio stile, sono gli altri che possono eventualmente individuarlo e definirlo. Quello che posso dire del mio lavoro è che ho sempre, progressivamente, cercato di arrivare al nocciolo delle cose, all'essenza, buttare via tutto quello che era superfluo, lavorare per sottrazione in definitiva. Questo è stato il mio impegno di sempre. Naturalmente ho avuto tutto il tempo per fare l'esperienza che era giusto fare fin dall'inizio, molto sperimentato. Adesso credo di sapere esattamente quando inizio un nuovo progetto, so esattamente dove voglio andare. e questo forse è uno stile. È stato molto importante per me la formazione che ho avuto di architetto. Questo mi ha permesso di costruire veramente il progetto, tenendo conto di tutto quello che l'architettura ci insegna, dell'armonia, dell'equilibrio. Questo non è secondario. Questo naturalmente ha influenzato molti miei anni di, come dire, apprendistato. perché ho voluto un po' sperimentare tutto. Però l'ho sempre fatto con estremo rigore, con grande determinazione. E poi naturalmente ho una mia estetica che caratterizza un po' poi le scelte figurative che io propongo. questo è questo per me. Grazie.